Se la vita porta a sognare, tu col jump puoi respirare. Aria nuova, profumo del mare, questo è il jump, sano a giocare. Tutti amici in squadra correndo, in un cerchio ognuno sta dentro. Fai con noi le vacanze d'estate, sole e mare salta con noi. Ciao, sono Francesca, presidente dell'ASI, promotore dei centri estivi sportivi jump. Uno dei punti di forza dei centri estivi è sicuramente dato dallo staff, composto dagli insegnanti, che sono facilmente riconoscibili in maglia blu, in divisa blu, e dagli aiutanti invece in divisa gialla. Gli insegnanti sono tutti ragazzi laureati o laureandi, quindi titolati a svolgere questo ruolo, in più formati secondo il nostro metodo educativo, che è un metodo che ormai abbiamo potuto provare sul campo e in anni di esperienza. Gli insegnanti a loro volta sono aiutati, affiancati dalle maglie gialle, che sono giovani ragazzi che insieme alle loro famiglie hanno deciso di sposare il nostro progetto educativo e quindi hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza personale, formativa, di crescita sicuramente incisiva. Come mamma di tre bimbi che ovviamente da anni frequentano i centri estivi jump, ci tengo ad aggiungere che nello staff cerchiamo anche quella luce negli occhi, quel brio, quell'entusiasmo, quella voglia di fare, quella sensibilità e quell'attenzione che ogni mamma vorrebbe vedere nell'insegnante del proprio figlio. I centri estivi jump per comodità sono sparsi un po' in tutto il territorio fanese, iniziando dalle zone più vicine al mare, quindi troviamo il centro Baia Metauro che si trova nel circolo tennis Team Fano, poi ci spostiamo verso la zona di Sassonia, abbiamo il centro dello sport park e della scuola Gentile e poi abbiamo il mini jump nella scuola dell'infanzia Manfrini. Spostandoci un po' più verso il centro abbiamo la zona trave dove abbiamo un centro jump al campo da rugby di Fano e un mini jump invece zona Poderino presso la scuola dell'infanzia al Giardino dei Colori, lungo via l'Italia. Poi siamo anche a San Lazzaro con il mini jump presso la scuola dell'infanzia Albero Azzurro. Poi ci troviamo anche a Sant'Orso presso il circolo tennis e alla scuola dell'infanzia per il mini jump di Sant'Orso la scuola dell'infanzia Zizi. Spostandoci un po' verso l'interno abbiamo il centro anche a Bellocchi, presso la parrocchia e poco vicino il mini jump presso il circolo anziani Cicogna. I centri estivi sportivi jump non si svolgono solo a Fano, infatti abbiamo delle sedi anche nella provincia di Pesaro Urbino e nella provincia di Ancona. Per la provincia di Pesaro Urbino abbiamo delle sedi a Gabicce Mare, Montecchio, Villanova e Sterpeti, così come a Marotta e Monteporzio. Per la provincia di Ancona abbiamo invece i centri di Senigallia, Monte Marciano, Trecastelli e Monte San Vito. Sono qui per presentarvi la giornata tipo dei centri estivi jump. I centri estivi jump aprono dalle 7.75 alle ore 9 dove c'è la fase dell'ingresso, dove i bambini fanno i compiti e disegnano. Poi successivamente dalle ore 9 alle ore 10.30 c'è la prima fase dell'attività sportiva. Poi da 10.30 alle ore 11 c'è la fase della merenda e dalle ore 11 alle ore mezzogiorno e 30 c'è la seconda fase dell'attività. L'attività che viene svolta all'interno dei centri estivi jump sono attività sportive, dove facciamo fare i bambini dagli sport più comuni, come il calcio, la pallavolo, il tennis, il basket, anche da quelli più meno comuni, cioè quindi quelli che hanno meno visibilità, come il rugby, il pentathlon, il futsal, il dodgeball, il badminton, e cerchiamo di fargli conoscere questi sport e dargli, come dicevo prima, visibilità. Poi, durante la fase del pomeriggio, i bambini potranno poi restare all'interno dei centri estivi dove faranno gioco libero con attività anche ricreative. I mini jump sono i centri estivi rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni. Per quanto riguarda il programma, le attività si basano soprattutto su attività propedeutiche, ai vari sport, a partire da quelli più classici e per poi fare anche sport più particolari, come per esempio il tiro con l'arco, il badminton, il triathlon, in modo da permettere anche ai bambini più piccoli di poter entrare nel mondo dello sport. Per quanto riguarda queste attività più strutturate, coinvolgiamo bambini in piccoli gruppi, in modo che ognuno possa comunque partecipare ed essere il convolto nel miglior modo possibile. Inoltre, il programma prevede uscite anche didattiche, come per esempio la fattoria didattica, e poi prevede anche attività, diciamo, meno strutturate, che possono essere la baby dance, oppure anche la caccia al tesoro, o il momento dedicato al disegno. E particolare importanza diamo anche il momento del gioco libero, nel quale i bambini hanno modo così di poter esplorare, di poter dar vita alla propria creatività e anche creare le prime amicizie. Ricerche pedagogiche ed esperienze sul campo danno supporto alla tesi che l'educazione ai valori, all'inclusione e alla socialità passi anche attraverso l'educazione motoria e sportiva. Ed è per questo che i centri Stivi Jump da anni collaborano con diverse realtà locali al fine di creare una rete di supporto che possa accogliere bambini e famiglie con situazioni delicate. La collaborazione con i servizi sociali, servizi educativi e diverse comunità a livello locale è particolarmente proficua, al fine di creare una rete di supporto che consente ai bambini di vivere la magia dell'estate in un contesto di sport, di gruppo e soprattutto di serenità. Da anni è inoltre un'attenzione particolare rivolta alle diverse abilità e per questo ci teniamo in particolar modo a ringraziare le famiglie che ci hanno concesso la loro fiducia permettendoci di arricchire il nostro progetto formativo. Non solo sport nei nostri centri ma anche laboratori e attività didattiche ludico-ricreative ad esempio la collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche per un laboratorio sulla scoperta delle spiagge e il loro rispetto oppure il programma alimentazione di cui parlerà la mia collega Marta Attraverso lo strumento del gioco, anche quest'anno abbiamo riproposto l'attività Jump Day Un mondo più pulito, per cui attraverso il gioco e la competizione i vari gruppi hanno pulito un luogo che noi frequentiamo abitualmente. Anche i giochi che selezioniamo per i nostri ragazzi vengono decisi in base alle capacità che vogliamo indagare per cui problem solving, capacità di attenzione, rispetto per le regole, decision making sono tutte attività che anche attraverso lo strumento del gioco da tavolo possono essere implementate nei nostri ragazzi fin da piccoli. E la mano sinistra sul giallo, mano destra sul verde. Anche quest'anno il Jump propone il progetto alimentazione e l'alimentazione è un aspetto molto importante della vita di ognuno di noi e soprattutto nella vita dei bambini per cui tutto ciò che noi ingeriamo contribuisce al nostro benessere fisico. Tutti i giorni i bambini nei nostri centri si alimentano di un passo completo di primo, secondo e frutta di stagione con la possibilità di variegare gli alimenti e soprattutto di reintegrare tutto ciò che durante l'arco della giornata e durante le attività sportive hanno eliminato. Oltretutto cerchiamo di trasmettere un messaggio educativo molto importante e anche nella vita agli fuori del centro estivo ovvero quello di evitare lo spreco e assaggiare tutti gli alimenti. Oltre alle varie attività sportive che proponiamo nei vari centri estivi Jump abbiamo anche delle uscite dal centro per esempio la gita in mountain bike o l'utilizzo del mare come il soup o ancora delle attività specifiche, delle gite specifiche intorno al centro per esempio noi di Baia Metauro abbiamo l'uscita sul fiume Metauro o in Pineta oltre però a questi tipi di gite abbiamo delle attività speciali che facciamo con tutti i vari centri per esempio il camp Natura Avventura che sono tre giorni a Carpegna immersi nella totale vegetazione immersi nella natura o il furlo che è una gita di un giorno solo che si va alla scoperta della gola o insieme a queste due attività abbiamo la notte in tenda dove i bambini vanno a dormire in totale sicurezza nelle proprie tende senza genitori e come ultima gita abbiamo Fiabilandia cioè andare in Romagna con il Pullman È da diversi anni che faccio parte dei centri estivi Jump e fin dal primo anno mi hanno offerto diverse opportunità sia in ambito professionale che mi hanno fatto chiarezza su quale potrebbe essere il mio lavoro futuro sia in ambito personale perché oltre al fatto che all'interno del centro si crea un ambiente molto accogliente pieno di stimoli i bimbi fuori dal centro ci salutano con grande entusiasmo ed è bellissimo se la vita porta a sognare tu col Jump puoi respirare aria nuova profumo del mare questo e il Jump sanno giocare tutti amici in squadra correndo in un cerchio ognuno sta dentro fai con noi le vacanze d'estate sole e mare salta con noi Jump! 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 Jump!